Oggi vediamo come riempire le strutture anche in bassa stagione Ciao a tutti sono Alessia, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video oggi dedicato alle strutture ricettive e per comprendere come riempire le strutture anche in bassa stagione e credetemi che non è impossibile se ci riuscivo anche io con il mio team a riempire un hotel di 52 camere in un paesino di 35.000 abitanti senza neanche un cinema quindi credetemi che lo potete fare anche voi e noi non avevamo né cinema né spa come struttura interna avevamo tutti i servizi che erano prettamente estivi. Quindi come fare a riempire un hotel anche in bassa stagione quando siamo aperti 365 giorni l'anno? Bene la prima cosa da fare è capire se stiamo effettivamente parlando al nostro target. Sì lo so alcuni di voi mi diranno ma io parlo tutti e se parla da tutti state facendo male non è questo il metodo giusto perché noi dobbiamo conoscere i target e dobbiamo capire quali sono i loro bisogni quali sono le obiezioni perché sono scettici e soprattutto perché non viaggiano durante la bassa stagione perché magari voi non vi rendete conto ma è necessario fare uno switch e fare un cambio di target. A me è capitato molto spesso che la bassa stagione non è uguale per tutti e attenzione perché ogni tipo ci sono tipologie di hotel diversi ci sono tipologie di target diversi. Arrivava un periodo dell'anno noi dovevamo completamente switchare il nostro target cambiarlo adottare una comunicazione diversa che ovviamente non andava a ledere al brand che la gente andava a vedere dice ok questi sono impazziti però di conseguenza noi andavamo a parlare proprio quelle persone che dovevano poi venire da noi. In questo modo noi andavamo a risolvere un problema e aiutavamo di avere camere vuote. Quindi se magari il vostro target sono famiglie con bambini piccoli facciamo questo esempio. Bene magari le famiglie con bambini piccoli durante l'inverno durante determinati periodi dell'anno non viaggiano e mo c'è la scuola e mo c'è il lavoro c'è le ferie quindi magari dovete puntare a un target business dovete puntare a un target che magari è in tensione tipo i baby boomers che possono viaggiare durante tutto l'anno e quindi non hanno questa tipologia di problema. Ma vediamo quindi come fare a trasmettere tutto ciò attraverso la comunicazione online. Beh iniziamo a vedere la creatività. Se siamo a dicembre per voi è bassa stagione perché magari non siete un luogo di montagna dove la gente può anche sciare eccetera. Bene se avete ancora le foto delle persone in costume da bagno eccetera capite bene che non vanno poi a parlare al mio target e a convincerlo a venire nella mia zona nella mia città. Perché credetemi molte città hanno tanto di offrire anche negli intorni quindi cercate di valorizzare cercare di valorizzare la città non solo per la parte estiva oppure al contrario in base sempre alla vostra situazione e quindi fatelo conoscere ai vostri utenti. Così come vi stavo dicendo prima anche fate conoscere ciò che vi circonda gli eventi. Vedete che se voi vi soffermate un pochino a fare un minimo di ricerca troverete tante di quelle informazioni e tante cose che si possono fare nella vostra città soprattutto a livello esperienziale e quindi è oggi i funghi e oggi il frantoio eccetera sono tutte esperienze interessanti ad esempio la cooking class che vanno a colpire molto bene il target ad esempio dei baby boomers che è un tipo di target che tendenzialmente non viaggia in alta stagione ne viaggia in bassa stagione dove ovviamente il rapporto qualità prezzo è migliore hanno tempo hanno potere d'acquisto e soprattutto non vanno più a cercare solo monumenti ma cercano anche esperienze quindi cercate e fate delle collaborazioni e vedete che queste saranno collaborazioni vincenti perché andrà a svoltare la vostra comunicazione online. Ora io vi ho fatto solamente l'esempio magari del periodo invernale però la bassa stagione per invece le strutture stagionali può essere inizio giugno e fine settembre ora farò un video più specifico per i villaggi però facendo un esempio proprio in quest'ottica nel momento in cui voglio fare una vacanza a giugno beh pensiamo a giugno 2023 bene di tutte le strutture da quale io mi sono occupata giugno è stato un disastro perché che cosa è successo giugno ha piovuto tantissimo e quindi le persone se comunque erano interessate che cosa facevano cercavano di fare marcia indietro perché avevano paura poi di andare in struttura e di non fare niente. Bene che cosa abbiamo fatto? Abbiamo puntato per l'appunto i riflettori sul divertimento che c'era comunque in struttura quindi nel momento in cui la tua animazione in questo caso comunque se offri altro è in grado di intrattenere il tuo ospite anche con il brutto tempo bene questo lo devi dire glielo devi far notare altrimenti loro non lo sanno si fanno spaventare da mal tempo prendono e disdicono se avete una spa fantastico cercate di trattenerli da voi in qualsiasi modo con il ristorante o con altri servizi che voi siete in grado di offrire all'interno o comunque all'esterno della vostra struttura stesso discorso che io vi posso fare ad esempio per fine settembre beh ovviamente per quanto riguarda i villaggi c'è un calonetto delle prenotazioni a settembre anche perché come vi dicevo prima ci sono le famiglie che hanno i bambini che tornano a scuola e sono finite le ferie e quindi di conseguenza in molti a fine settembre non partono in vacanza ma l'altro motivo quello che li rende scettici nel prenotare una vacanza a settembre è il fatto che l'animazione non ci sia e quindi che cosa fanno o non te lo chiedono proprio quindi non prenotano oppure nel caso te lo chiedono ma è uno sforzo in più che fa l'utente online e vi ho sempre detto che l'utente è pigro è difficile che faccia questi passi in avanti quindi che cosa ho fatto e che cosa dovreste fare voi nel momento in cui sapete adesso che questo tipo di target ha questa obiezione bene siete voi ad anticiparla nel momento in cui mettete la promo di settembre dove aggiungete anche un prezzo stracciato beh date valore a quel prezzo e dite vedi che l'animazione c'è c'è fino magari al giorno di chiusura o c'è fino a quella data quindi prenota perché ti garantiremo lo stesso divertimento che tu hai avuto ad agosto solo che addirittura avranno un prezzo migliore perché non è alta stagione quindi io spero con questo video di avervi fatto capire che c'è la possibilità di aumentare le entrate e di aumentare le prenotazioni anche in bassa stagione perché una struttura di certo non può andare avanti puntando solo a pochi mesi l'anno se avete bisogno o consulenza mi potete contattare all'inizio info chioccia alessia boccanfuso punto com e se avete altri trucchetti potete scriverli qui nei commenti e condividerli con noi io vi aspetto nel prossimo video Bessos Grazie.